ciao a tutti fratelli e sorelle bentornati e benvenuti al lollo into the wild perché oggi ovviamente è domenica e come vedete anzi devo tirare giù un poco al giacchino ho messo il giacchino perché inizia a fare freddo quindi questo video non sarà un video di 20 minuti perché sennò mi raffreddo e poi dopo poi settimana prossima non vedete i miei video perché sono a casa con la febbre come state come state ciao a tutti come sempre vedete a proposito l'oling to the wild adesso vi faccio vedere perché mi hanno costruito un ponte in mezzo alla mia strada la strada che prendo sempre allora ragazzi video della domenica video come sempre un po discorsivo un po un po così nel senso un po riflessivo su quello che è successo durante la settimana evidentemente questa settimana siamo senza senza siamo stati senza calcio quindi le considerazioni di questa settimana saranno insomma su degli argomenti che sono stati un po importanti appunto in questa in questa settimana ma ci hanno fatto un ponte ragazzi non passo di qua da una settimana e c'è un ponte allora ragazzi settimana che mi lascia molto con con la mano in bocca per tutti gli accadimenti che sono successi tra l'altro piccola parentesina ho visto che qualcuno mi citava in giro per per il web dicendo che spesso come dice lollo spesso che causa del suo mal pianga se stesso mi dispiace deludere le persone che hanno scritto questa cosa ma la frase non è mia ma è di dante lighieri quindi molto ben più molto più importante e ben ben più pensata rispetto rispetto al vostro amico lollo però sì il senso è quello anzi metà metà che causa del suo mal pianga se stesso ok se non stessimo parlando di una malattia perché il discorso che vi ho vi ho già fatto questa settimana è quello cioè è importante sì assolutamente dar responsabilità appunto a chi è causa del suo mal pianga se stesso perché alla fine sono cose che ti vai a cercare dall'altra parte come vi dico sempre come vi ho detto spesso questa settimana la ludopatia è una malattia vero e propria quindi essendo una malattia poi a livello da curare a livello psicologico e psichiatrico non è facile ragazzi non è non è assolutamente facile quindi per chiudere questa cosa si è vero che è causa del suo mal pianga se stesso ma in questo caso non è che sei andato lì volontariamente ti sei tirato una martellata sul pollice ci sono tante altre conseguenze che intercorrono nello sviluppo della della ludopatia la stragrande maggioranza sapete che sono un appassionato di psicologia la stragrande maggioranza delle volte è insoddisfazione che poi insoddisfazione radicata in se stessi che poi alla fine sfocia in dei vizi in dei vizi in questo caso ovviamente parliamo della ludopatia però non voglio entrare in merito perché nonostante sia siano degli argomenti che sui quali leggo molto spesso mi appassiona questa cosa ovviamente non ho non ho gli studi e non ho i gradi necessari per farvi un discorso del genere quindi questo discorso lo a mio malincuore lo lo chiudo lì lo metto in un cassetto faccio gli auguri di pronta guarigione e non utilizzo a caso questa parola faccio gli auguri di pronta guarigione a sandro e insomma a tutte le altre persone coinvolte in in questo problema ieri leggevo tante persone che mi dicevano lo lo hai visto adesso quello che è successo rescindono il contratto il milan poi ci va di mezzo di qua di là no ragazzi il milan non ci va di non ci va assolutamente di mezzo come vi ho detto nel video di voi giovedì non mi ricordo quando l'unico caso in cui le squadre possano essere chiamate in causa in in una responsabilità per per quello che è successo è solo nel momento in cui viene provato il fatto che le squadre erano a conoscenza della malattia dei malattia ok la ripeto della malattia ludopatia dei 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 calciatori nel caso non venga trovata questa questa responsabilità ovviamente rimane niente non responsabilità dei club e basta il milan non rischia niente ovviamente a livello di classifica eccetera eccetera ma rischierebbe solo qualcosa a livello spettato un secondo raga che qua arrivano un miliardo di bici facciamo passare le bici scusate i ciclisti in milan rischierebbe qualcosa soltanto a livello economico soltanto nel caso in cui ve la fase di trattativa per la vendita di newcastle all'epoca forse non lo so ipotizzo è non è non è non vi sto dicendo che è così vi sto solo solo ipotizzando magari alcuni pagamenti erano legati a tot presenze del calciatore e ovviamente si parla di bonus e non si parla di parte fissa quindi vi ricordate che la famosa vendita di tonali stavamo parlando di 70 più bonus una roba del genere ecco magari bonus maturavano forse maturavano a tot presenze di sandro ecco diciamo che è ovviamente dopo quello che è successo se fosse realmente provata la sua responsabilità ma ieri come abbiamo letto da monica colombo su corriere della sera insomma non so come dirlo sandro ha si sarebbe messo a piangere avrebbe dichiarato somma apertamente la sua la sua ludopatia quindi ovviamente questa cosa comporta o mi fa male dirlo lo so ragazzi non so se state notando la mia differenza la mia la difficoltà nel dirlo ieri qualcuno di voi mi ha scritto l'olio ma non ti devi non ti devi fare sono emozionato scusate non ti devi far far emozionare da una cosa è un problema loro sono cavoli loro non lo so ragazzi se avete ragione perché ovviamente sono scelte loro però dall'altra parte non lo so ora io io i nostri ragazzi ma vale per tutti e io i nostri è come quando vedo i nostri giocatori che giocano ma lo so non è paragonabile la cosa però come quando li giocano male sto un po malino per loro guardate che bello qua ragazzi sto male sto male sto male per loro e anche in questo caso lo so che non dovrei esserlo non so se anche voi provate questo sentimento lo so che non dovrei essere triste no tra virgolette per per sandro è come se fosse un mio amico cioè lo so esagero però è come se sandro fosse un mio amico e gli succede sta roba lo so che non è mio amico sandro non sa neanche chi sono però boh è un nostro ragazzo non lo so cioè vederlo così giovane che ha combinato sta cagata forse sì è quello il mio sentimento ragazzi sincero poi la seconda cosa che vi volevo dire chiudiamo questo discorso qua speriamo di non doverne parlare di più se non poi dopo quando sarà il momento delle conseguenze di quello che è successo la seconda cosa di cui volevo parlare è la ovviamente molto meno importante è il fatto che mi hanno spiegato ieri che chris pulisic tra l'altro aperto parentesi chris pulisic che ieri sera contro la germania raga ha fatto un euro goal se non l'avete visto andato a vederlo ha fatto veramente un euro goal di di destro all'incrocio dei pali dopo averne scartati tre euro goal cioè non c'è un'altra definizione per c'è un altro modo per definire il gol di ieri euro goal fa il gol e fa una grandissima partita partite che poi tra l'altro perde l'america e gli usa poi perdono però questa cosa che io non avevo non avevo considerato il fatto che chris pulisic giocherà la partita la prossima partita la giocherà adesso non so dirvi non so a rifarvi esattamente il calcolo di tutti i fusi orari perché non me li ricordo ma c'era tutto questo calcolo dei fusi orari per cui quando gioca chris pulisic e quando giocano chris pulisic e junus musa negli stati uniti praticamente tornano a milano per giocare la partita con la juve con pochissime ore di riposo perché partono dalla la giocano di notte adesso perdonatemi ma non so ripeto non so far rifarvi il conto con con i fusi però era tipo che la partono di notte insomma era tutto tutto un casino e visto quello che è successo l'ultima volta quando il nostro capitano america è tornato dalla trasferta internazionale con con l'america dove nella partita successiva onestamente ha fatto ha fatto un po fatica a livello fisico perché ovviamente raga non riposi e chi fa chi 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 ha giocato a calcio lo sa benissimo o anche chi ha fatto sport in generale sa benissimo a cosa mi riferisco se se non riposi non riesce a dare il massimo quindi venuto è venuta fuori praticamente la storia che ci fosse la possibilità di far partire contro la juve in dall'inizio il ciucu vediamo vediamo cosa succede sono molto curioso di vedere le scelte di mister pioli ragazzi adesso abbiamo ancora una settimana di tranquillità tranquillità col cavolo perché guardate cosa è successo sta settimana abbiamo forse una settimana di tranquillità guardate che c'è una luce stranissima bianchissima settimana di tranquillità si spera che non escono più bordate del genere e poi parte parte una serie di partite ragazzi da mani nei capelli juve psg napoli tra l'altro napoli leggevo ieri si è fatto male pare è non lo so è pare se sia fatto male osyman non lo so vediamo vediamo perché ma non vuol dire niente perché si era fatto male anche si sembrava che si era fatto male chiesa ma poi ha recuperato tra l'altro aperta parentesina chiudo qua discorso io sono uno di quelli che voglio sempre giocare contro tutte le squadre al completo come voglio tutta la mia squadra al completo quindi io non gioisco mai quando si fanno male i giocatori delle altre squadre datemi la juve al completo datemela vlawich chiesa datemi non c'è problema però voglio voglio anch'io tutti i miei io voglio giocare a centrocampo con l'off to chic da una parte voglio giocare dall'altra parte con tijani renders e voglio giocare in mezzo al campo con yasin adli anzi vorrei giocare con ismael benasser datemi sto centrocampo qua fatevi giocare le partite di champions i quarti finale semi di finale con isma benasser love to chic e tijani renders poi ne riparliamo ragazzi vi saluto volevo fare un video veloce perché sennò mi sudavo addosso invece ho fatto ancora 11 minuti ciao a tutti raga è stato un piacere tenervi compagnia scusate l'intro quell'intro un po un po così dove non abbiamo parlato di calcio ma alla fine quello era il tema oggi bisognava parlare anche di quello sono un po no triste non sono triste però questa settimana qua con tutte queste cose che sono sono successe mi hanno lasciato un po non so voi fatemi sapere qua sotto cosa ne pensate mi hanno lasciato un po di non lo so di malinconia non lo so fatemi sapere voi cosa ne pensate ciao a tutti raga like iscrivetevi al canale se lo avete ancora fatto e ci vediamo poi domani per i prossimi video andate sul mio secondo canale che è uscito il video del manicomio abbandonato ciao a tutti un abbraccio ciao